Sì, è veramente deludente, mi dispiace, soprattutto guarda quasi mi vergogno perché siamo partiti bene ma non riesco a far venire dei giocatori, mi sento preso in giro, comunque annuncerò una svolta perché molto probabilmente al girone di ritorno sto prendendo delle decisioni e vediamo perché o rifondo un po' tutto oppure non lo so, mi viene quasi voglia di lasciare. Vorrei fare un appello per questa sera perché sono tanti anni che faccio la Lega e come tutti sanno io ho perso anche un playoff per essere una persona totalmente leale e precisa e stasera avevo fatto lo stesso però purtroppo non mi hanno ascoltato e sono costretto a fare ricorso perché loro giocavano con un giocatore tesserato con me e mi dispiace, io l'avevo avvertito prima della partita, mi dispiace per questo. Sì, voglio cercare di fare la stessa cosa, come hai visto il girone d'andata, le prime tre partite c'erano facce nuove insieme al gruppo storico perché io devo solo ringraziare questi ragazzi perché ci stanno 7-8 ragazzi che da qualche anno mi seguono e come stasera hai visto danno il fritto ogni partita e io non smetterò mai di ringhiazzarli. Comunque quelle facce nuove non le vedrete più e sto tentando di rifondare un altro piccolo gruppo che si vuole unire al nostro per finire in bellezza, cercare di salvare questa squadra.